No, aspetta, voglio vedere. Cosa fa? Si è mortito. Oh, oh, ma perché fa così? Oh, no, che cazzo si è finito? Che cazzo? Ma fate tantissimo. Serrata, un giunto, serrata, un giunto. C'è un spazio immenso dove poteva... Veramente, c'è, guardate quanto spazio c'era dove cazzo è finito. Che ne vuoi segnere, mo, che è attaccato al trattore, raga. Si è bugato tu. Non me lo segna. Si è bugato tu. Fate la clip, per l'amor di Dio, fate la clip. Perché questa merita di essere clipato. Comunque il farming non dà errori. C'è, ma con tutto il posto che c'era, guardate dove è andata a finire.